Ben ritrovati amici, buona giornata e buona settimana. Questa è una settimana importantissima, la settimana in cui torna il calcio in Italia, ma non solo, torna anche la Liga a partire da giovedì con un grandissimo nuovo inizio, perché si riparte con il derby di Siviglia, una delle partite più belle che ci siano nel panorama europeo, peserà molto l'assenza di pubblico, sarà un peccato, però l'importante è riappropriarsi anche di questo fantastico campionato, che ha tanti discorsi aperti, per cui per giovedì vi prometto una super guida al ritorno della Liga, con tutte le battaglie, con lo stato di tutte le protagoniste. Giovedì sarà un giorno completamente dedicato al calcio spagnolo, però questa settimana torna il calcio italiano, torna con il gustosissimo prologo della Coppa Italia, ci sono state tante discussioni, ci sono state tante problematiche, ce ne sono ancora da risolvere, però finalmente si ricomincia. E allora, nell'ottica di questa ripartenza, voglio proporvi per oggi e domani un'analisi sulle quattro squadre che riapriranno la stagione italiana, le quattro protagoniste della Coppa Italia, che poi sono anche forse quattro fra le big principali del nostro scenario, per cui si parte subito a ritmo molto alto, con un trofeo in palio e con grandi luci ad illuminare questo inizio. Oggi parto dalla Juventus, la Juventus che è ovviamente la squadra da battere, non solo perché da otto anni domina il calcio italiano, ma anche perché è prima in classifica, in Serie A, quindi riparte davanti a tutti, ha concluso vincendo una partita cruciale, lo scontro con l'Inter 2-0, in condizioni già fortemente segnate, però sono punti pesanti. Una Juventus che ha sì tutte le carte in regola per essere la protagonista numero uno anche di questa seconda parte di una stagione che non ci dimenticheremo mai, ma è anche una squadra che ha bisogno di risolvere delle cose, ha bisogno di trovare delle soluzioni. È la squadra più forte, è la squadra con la rosa più lunga, in questo senso anche la nuova regola delle cinque sostituzioni è di sicuro un vantaggio per Maurizio Sarri, però abbiamo visto cosa è stata la Juventus nei primi due terzi di stagione, una squadra che ha fatto dei risultati, anche se non ha vinto il trofeo che si è giocata, ovvero la Supercoppa italiana, una squadra che ha tante possibili conformazioni, ma che non ha ancora trovato un'identità al 100% sulle linee che si prospettavano all'inizio della stagione e che oltretutto dovrà affrontare anche delle tematiche nuove legate al singolo momento, per cui adesso vi voglio analizzare il punto da cui riparte Maurizio Sarri con la sua Juve. Il primo punto di analisi è proprio quello del ragionamento di Sarri. Sarri è arrivato chiaramente con delle idee molto chiare, le idee che ha sempre presentato nella sua carriera, era impensabile che potesse replicare il Napoli alla Juventus, non lo aveva fatto neanche al Chelsea, non ha replicato nemmeno il Chelsea, perché poi ha sì una mentalità molto caratterizzata, ha sì una voglia di giocare un calcio ben definito, però anche un allenatore che sa adattarsi bene al materiale che ha a disposizione. L'adattamento fra Sarri e la squadra è stato a volte un pochino complicato, perché i cambiamenti sono stati sostanziali, soprattutto a livello di mentalità, di posizioni in campo, di esecuzioni di un certo tipo di concetti sui quali Sarri non transige, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Abbiamo visto una Juventus meno impermeabile di quello a cui eravamo abituati con Allegri e prima ancora con Conte, una Juventus che ha avuto anche dei discorsi da affrontare per quanto riguarda il settore offensivo, adesso i discorsi da affrontare sono parecchi e parto proprio dall'attacco, perché l'attacco non ha al momento una figura che non sembrava così importante all'inizio stagione, ma lo è diventato durante lo sviluppo dell'annata calcistica, ovvero quella di Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain ha dei problemi fisici, ha avuto un lockdown abbastanza turbolento, ha anche la testa legata al futuro, in questo momento però quello che mi interessa è il campo e Higuain non ci sarà per questo nuovo inizio di stagione, per cui Maurizio Sarri deve un po' rivedere i propri piani, deve reinventarsi delle soluzioni offensive e in questo momento la quota più bassa fra le previsioni di formazione per quanto riguarda il comparto offensivo ce l'ha il tridente formato da Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa, un tridente pressoché inedito, non molto cercato e sviluppato durante la stagione, anche per quelle che sono state le difficoltà fisiche di Douglas Costa, un tridente che secondo me è molto interessante, perché sono tre giocatori che possono convivere benissimo, che possono proporre un calcio anche bello oltre che produttivo, è però almeno a un livello ideale, perché queste sono considerazioni che si fanno sulla carta, si fanno sulla griglia di partenza, poi quello che sarà effettivamente il calcio di questa stagione dopo questa lunga interruzione, giocando ogni cinque minuti fondamentalmente è un qualcosa da scoprire, è qualcosa che porta a tante incognite. Il mio pensiero, pensando a questi tre davanti, è che siano giocatori particolarmente adatti ad un calcio ad alto ritmo, quindi il calcio che vuol fare Sarri, però si riuscirà ad avere un ritmo alto, una condizione subito brillante dopo tutti questi fatti? È un po' l'argomento centrale, l'argomento da dibattere, così come le condizioni fisiche soprattutto di Douglas Costa, che è indiscutibilmente un giocatore che fa la differenza quando sta bene, il problema è quando sta bene. Per cui questa è un po' la chiave da trovare per capire se funzionerà questo attacco. Di sicuro Cristiano Ronaldo è una macchina, è uno che si sa gestire e che probabilmente si è gestito al meglio possibile in questi mesi. Di Bala non solo è un giocatore esploso, ma anche un giocatore che ha fatto, come vi ho detto più volte, un click mentale, per cui anche lui me lo aspetto affamato, me lo aspetto sul pezzo, me lo aspetto anche in grado di sviluppare diversi discorsi, perché Di Bala può giocare dal riferimento principale dell'attacco, non è un centravanti puro come Higuain, ma è un attaccante vero, è un giocatore che può sostenere questo ruolo. Bisogna vedere se questo tridente potrà avere continuità e, vista anche la necessità poi di turnare, di affrontare tante partite ravvicinate, credo che si possano aprire anche soluzioni differenti e di conseguenza possano arrivare occasioni per giocatori che dovranno sfruttarle anche per dare un futuro alla propria carriera. Non ci sono molte soluzioni nell'attacco, per cui mi viene da pensare che al limite quadrado possa essere anche riproposto, un po' più avanti, però lì c'è da trovare una soluzione sui terzini e fra poco ci arrivo. Ma una figura che diventa molto importante, oltre a quelle dei giovani dell'Under 23 che sono coinvolti in questo momento di preparazione, che potrebbero avere dello spazio, ma una figura importante diventa quella di Federico Bernardeschi. Bernardeschi che in questa Juve non è stato protagonista fin qui, ma che può essere un giocatore con le caratteristiche valide per trovare dello spazio e anche per poterlo sfruttare, perché Bernardeschi può essere schierato sia come esterno in una conformazione da tridente, sia come mezza punta nel 4-3-1-2 che è una soluzione che Sarri ha in testa. Certo, molto dipende da come Bernardeschi riuscirà a farsi trovare, se darà una svolta alla sua stagione, se fisicamente starà bene, perché tante volte la mia impressione è che Bernardeschi sia mancata un po' di forza, sia mancata un po' di scintilla, per cui anche in questo caso lo stato fisico è fondamentale, però Bernardeschi oggi assume una dimensione che prima dell'interruzione non aveva. Un altro giocatore che dovrà dare un contributo sostanzioso è Ramsey, un parametro zero molto importante di quest'estate, lui e Rabiot sono stati salutati secondo me giustamente come degli innesti pesanti in un centrocampo che chiedeva un restyling. Ramsey come è andato? È andato bene, ma non benissimo, mi verrebbe da dire. È un giocatore che offre delle soluzioni perché può fare appunto trequartista, io lo vedo un pochino più adatto al ruolo invece di mezzale in un 4-3-3, con un po' più di campo davanti, con un po' più di possibilità di portare palla e anche di muoversi senza il pallone. Però al di là della collocazione pura nei posizionamenti è anche in questo caso lo stato fisico con cui si ripresenterà Ramsey perché è un giocatore nella cui intensità, oltre che la cui qualità, può essere un motore importante per la squadra. Mentre per quanto riguarda Rabiot diciamo che io continuo a partire da un presupposto. Per me Rabiot è potenzialmente un grande giocatore, sia a livello tecnico che a livello fisico. Nel momento in cui è esploso nel Paris Saint-Germain, anche piuttosto presto, era un giocatore che poteva avere prospettive massime. Però è anche vero che ormai da tanto tempo caratterialmente e a livello comportamentale non risponde alle necessità che dovrebbero riguardare un giocatore di questo status. Il cambiare aria, il passare dal PSG alla Juventus non gli ha dato dei bonus, è stata fondamentalmente la delusione principale dell'annata bianconera. Però occhio a mettere dei timbri perché ripeto, le qualità di questo giocatore ci sono, sono chiare e ora cambia veramente tutto. Chissà che la scoperta non possa essere proprio Rabiot. Però parlando di centrocampo, i rientri importanti sono altri. Quello di Chedira, Chedira che ha ritrovato la piena efficienza fisica ed è un giocatore che ovviamente arriva a dare grandi bonus. C'è la figura di Matuidi, un'altra figura che si è riscoperta molto importante. Il nodo però del centrocampo riguarda il vertice basso. Una posizione che esiste sempre nel calcio di Sarri, è proprio un suo marchio di fabbrica. Allora era stato Valdifiori all'Empoli, 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 e adesso vive un ballottaggio un po' strano. Perché in questo momento, così come nei momenti precedenti allo stop, Bentancur si è preso lo spazio, si è preso la posizione, si è preso i gradi. E se li è presi strameritatamente, perché Rodrigo Bentancur è un giocatore splendido, è un giocatore che ha ancora ampi margini di miglioramento, ma che già ha lavorato tanto per adattarsi, per progredire, per diventare un giocatore da Juventus e da calcio europeo. Bentancur ora è davanti rispetto a Pjanic, almeno stando alle indiscrezioni che arrivano, per tanti motivi. Pjanic aveva iniziato abbastanza bene la stagione e poi non ha tenuto gli standard che ci si potevano aspettare da uno come lui. Ci sono i discorsi di mercato attorno, perché non credo sia un mistero che Pjanic sia molto, molto, molto tentato dalla prospettiva barcellona e questa è un'altra incognita che incombe sulla ripartenza del calcio. Il fatto che il mercato non sia ancora ovviamente aperto, ma sia un argomento estremamente dibattuto ed estremamente vivo, perché poi i contatti ci sono, le prospettive anche, quindi i pensieri occupano la testa. Io credo che Bentancur sia assolutamente credibile per fare il vertice basso di centrocampo, perché ha tutte le carte regola, ha visione, ha intensità, ha prima costruzione, ha livello tecnico, ha veramente tutto. Io però continuo a pensare che Bentancur, proprio per la sua completezza, proprio per il fatto di essere anche spavaldo agonisticamente, sa uscire, sa andare a pressare, sa avere i tempi giusti, sa anche inserirci, deve migliorare un po' in zona di definizione, però quello è l'ultimo passo. In questo senso Bentancur, schierato come intermedio, con Pjanic rivalutato, ritrovato e magari anche spronato da tutti i discorsi che si sono fatti, occhio perché potrebbe essere una soluzione primaria. Non vedo un ballottaggio stabile fra i due, vedo assolutamente la possibilità di convivere, ma sono tutti nodi che Sarri deve sciogliere e sappiamo bene quanto Sarri sia un allenatore a cui piace avere in testa un blocco, una formazione e poi al limite aggiustare a seconda delle necessità. Questo non sarà possibile per il tipo di scenario che c'è davanti, anche per quelle che sono le regole, perché ripeto, le cinque sostituzioni a partita diventano un fattore molto molto importante per una squadra come la Juventus. Infine il discorso riguardante la difesa, una difesa che sicuramente è migliorata perché Chiellini torna ad essere effettivamente il leader di questa retroguardia, era già pronto al rientro tre mesi fa, ora lo sarà ancora di più, è chiaramente da gestire perché viene da un infortunio molto pesante e debilitante, perché l'età è quella che è, perché anche a livello muscolare non si può rischiare, ma direi che Bonucci e De Ligt si sono stabilizzati nel corso della stagione, soprattutto l'olandese è cresciuto, si è adattato, è il difensore più da calcio di Sarri nella rosa della Juventus ed è anche il difensore con i valori maggiori, diciamo, se contiamo anche la prospettiva, l'età, quello che ha fatto e quello che potrà ancora fare. In più la riscoperta è ovviamente Demiral, perché Demiral la stagione l'aveva più o meno finita, così invece la può ricominciare e allora anche dietro le opzioni diventano parecchie, l'unico ruolo in cui non ci sono tante opzioni è quello dei terzini, perché la rosa è corta fin dall'inizio dell'anno, Alessandro ormai da un po' troppo tempo non è il vero Alessandro, però anche in questo caso non chiudiamo la porta a sorpresa perché la qualità e il livello del giocatore è indiscutibile, anche Danilo potrà dare un grande contributo perché gioca da entrambe le parti, io non credo che Danilo sia un terzino di top livello, è un giocatore utile perché può stare da entrambe le parti, è un giocatore esperto che ha portato magli importanti, Santos, Real Madrid, Porto, non è un titolare fisso, non è uno dei migliori terzini d'Europa, però è un giocatore che ti può risolvere le situazioni, in più c'è Quadrado che è stato appunto reimpostato come terzino, ma io credo che ogni tanto lo vedremo anche un po' più avanti, specialmente nella fase iniziale, e c'è De Sciglio, De Sciglio che si è trasformato in un grande pezzo da mercato per questo interesse dichiarato del Barcellona che ha fatto anche un po' pensare perché la figura di De Sciglio non è immediatamente accostata a club del rango del Barcellona, però effettivamente è un giocatore anche lui che può stare su entrambe le fasce, è un giocatore che ha esperienza, i terzini della Juventus sono una carenza, è forse il settore in cui la Juve è meno forte, però dal punto di vista della possibilità di soluzioni è fornita anche in questo settore. Ripeto, dovrà essere molto bravo Sarri, perché adesso si arriva al dunque, fin qui si è parlato tanto delle problematiche a livello di gioco e livello di identità, si è parlato logicamente anche dei risultati, perché poi i risultati quando allena la Juventus, quando allena un club del genere, sono quello che conta veramente tanto e che conta probabilmente più di tutto, ma adesso arriva una fase di gestione, una fase in cui la mano del tecnico diventa fondamentale, per cui è una grande opportunità per Maurizio Sarri, che io reputo uno degli allenatori più importanti del mondo, che credo sia assolutamente l'uomo giusto per gestire questa rosa, per gestire questa fase, adesso però arriva al campo, arrivano subito i trofei e allora in Coppa Italia la Juventus è messa abbastanza bene, perché insomma la semifinale di ritorno vede un risultato piuttosto buono ottenuto all'andata e anche la possibilità di affrontare un Milan con delle assenze e con diversa confusione. Poi ci sarà il nuovo inizio del campionato, non semplicissimo, c'è la Atalanta presto, c'è da giocare la partita con la Lazio, però la Juventus ha tutto in mano, il suo allenatore ha tutto in mano e adesso queste mani dovranno dimostrarsi ancora quelle del grandioso artigiano che ha fatto innamorare tanti e che ora deve arrivare a vincere i trofei più importanti.